Vogliamo parlare dell'importanza dei Master Asfor, ma in particolare della didattica e l'alta formazione per portare alla crescita e alla nascita di futuri manager? Certo, oggi c'è sicuramente una necessità più avvertita rispetto al passato di una qualità formativa di eccellenza. Non sono molte le strutture in grado di farlo. Sicuramente il sistema universitario è attrezzato per fare questo, qualche volta ha delle rigidità formali che lo rendono un po' meno dinamico rispetto alle esigenze che il mercato del lavoro presenta. E poi ci sono le business school, che sono le scuole di eccellenza come STOA, che sono molto più attente a quella che la dinamica del mercato avanza come possibile opportunità sia per i giovani che per le scuole di formazione. Oggi la formazione di eccellenza è considerata indispensabile anche dalle imprese, tant'è vero che in molti contesti ci sono dei Master che vengono organizzati per persone executive, che si chiamano, per persone che già operano nel mondo del lavoro da almeno tre anni, tra i tre e i cinque anni e che quindi pensano di poter fare una sosta operativa, dalle attività operative, per poter migliorare la propria formazione. Noi siamo in una competizione internazionale in cui i nostri giovani non sono destinati soltanto al territorio di origine, ma sono destinati ai territori, che sono quelli nazionali ma sono anche internazionali. Abbiamo un numero crescente di nostri giovani che incontriamo in aziende importanti che operano a livello mondiale e che spesso sono presenti su mercati differenti da quelli di origine. Per accelerare questi percorsi e per consentire una maggiore facilità di ingresso in questi circuiti, noi dobbiamo mantenere il passo con quelle che sono le esigenze e le opportunità che il mercato del lavoro presenta. E questo per esempio noi stiamo cercando ora di vedere se possiamo fare un progetto che unisca l'università, che ha la cultura, che ha l'attività di ricerca, che ha le competenze, che ha a volte le strutture, con le business school esterne, tant'è vero che sto cercando di creare, diciamo di attivare un master insieme all'università e di attivare un corso di perfezionamento insieme all'università Van Vitelli ma anche insieme alla SDA Bocconi, che anche ha un presidio culturale molto forte su alcune attività specialistiche. Diciamo che si può dire che la rete tra impresa e didattica sia fondamentale per poter costruire un futuro migliore per i giovani. Certo, anche questa è un'osservazione giustissima che io condivido in pieno, tant'è vero che nelle nostre attività formative, ma anche diciamo di quelle che l'università chiama dalle attività che si fanno nel terzo settore, noi sviluppiamo molto i rapporti con le imprese. Per noi l'impresa è il cuore dei nostri interessi, è la nostra mission di operare per creare soggetti adatti allo sviluppo delle attività economiche che sono presenti sul territorio allargato, quindi non il territorio ristretto, provinciale, regionale, ma un territorio allargato. I nostri corsi sono pieni di testimonianze aziendali, e in questo abbiamo un po' copiato dalle business school nazionali che hanno per prima, anticipando i tempi, tenuto queste relazioni con il mondo aziendale. A noi le imprese servono perché rispetto agli insegnamenti che cerchiamo di dare ai nostri allievi ci vuole il riscontro, ci vuole la possibilità che l'imprenditore venga, il dirigente venga e ci dica lui in quel settore che cosa ha fatto e dia la possibilità anche ai ragazzi di capire quanto sono attuali le competenze e la cultura che noi cerchiamo di trasmettere a loro. E poi sono fondamentali per migliorare la nostra offerta formativa. Noi abbiamo un pool di aziende che collabora con noi, per esempio con noi università, per ogni volta rimodellare la nostra offerta formativa e riadattarla nel corso del tempo alle nuove esigenze che il mercato presenta.